85 posti disponibili da mercoledì prossimo che arriveranno a 100 a fine ottobre. Il presidente della provincia Trespidi ha presentato oggi lavori ormai completati che hanno visto la realizzazione di un parcheggio nell'ex caserma dei Vigili del Fuoco di Viale Dante. Sarà custodito e a pagamento. La struttura di proprietà della provincia che l'ha messa a disposizione del comune di Piacenza gratuitamente per un anno. Sì un intervento importante a sostegno della rete commerciale e anche dei residenti di Viale Dante che usufruiscono di questi lavori di miglioria e quindi hanno bisogno però anche di vedere alleviati i loro disagi. All'interno dell'ex caserma trova spazio anche una palestra sistemata dalla provincia con un contributo di 160 mila euro che comprende anche la ristrutturazione degli spogliatoi. Mettiamo sul mercato delle politiche scolastiche un immobile nuovo che avrà un accesso indipendente da Viale Dante quindi non sarà necessario entrare nel cortile e che la provincia ha anche attrezzato ex nuovo dal punto di vista del materiale sportivo con i canestri, la rete da pallavolo, le porte da calcetto. Anche gli archivi della provincia e degli uffici di Borgo Faxal saranno custoditi nell'edificio di Viale Dante. Questa struttura che ha le nostre spalle invece il presidente ospiterà l'archivio della provincia. Sì sono tre parti delle ex officine della caserma dei vigili del fuoco che abbiamo pensato di recuperare per utilizzarle con una destinazione ad archivi che ci consente di ospitare gli archivi della provincia ma anche gli archivi del CSA, l'ufficio scolastico provinciale, che affronteremo il trasloco dall'attuale Borgo Faxal alla prefettura. Questa operazione consente all'amministrazione provinciale di poter risparmiare circa 250 mila euro di affitto all'anno. Durante la presentazione Traspidi ha espresso parere negativo sulle condizioni in cui la struttura è stata lasciata. L'auspicio è che i vigili del fuoco utilizzino meglio la caserma nuova di quanto hanno utilizzato nella fase di trasloco la caserma vecchia. Tornando al parcheggio sarà a pagamento come confermato dall'assessore ai lavori pubblici Giorgio Cisini, la prima ora costerà 1 euro, le successive 50 centesimi, mentre per l'intera giornata si pagheranno 3 euro. Resterà aperto dalle 7.30 alle 20.00. Unione Commercianti ha espresso soddisfazione. Alessandra Tampellini del Comitato Viale Dante ha anticipato la volontà dei commercianti di rimborsare la prima ora di parcheggio ai propri clienti.